Bene, intanto io vorrei iniziare subito con un ringraziamento agli organizzatori della fiera Rentec perché insomma insieme abbiamo iniziato un percorso che credo sia molto utile sia per il sistema delle imprese è evidente che qui siamo in una fiera abbastanza specializzata nel senso che il tema delle bonifiche è sicuramente ancora un tema centrale però non c'è dubbio che uno dei temi e l'abbiamo visto anche nelle presentazioni che ha tutta una serie di attinenze con le attività che vengono svolte dal sistema. Voglio ringraziare tutti i colleghi delle agenzie, in primis i colleghi direttori generali che oggi e anche ieri erano qua il vicepresidente ovviamente Luca Marchesi che ha una rappresentanza non solo come direttore generale di Alpa Friuli ma una rappresentanza ovviamente istituzionale del sistema che sostituisce oggi il presidente e vorrei ringraziare ovviamente anche i colleghi non direttori che sono intervenuti perché credo abbiano fornito elementi conoscitivi importanti prodromici alla discussione che faremo ovviamente nel pomeriggio. Detto questo, proprio per non portare via troppo tempo anche perché è necessario avere una pausa per poter mangiare qualcosa e poi preparare i lavori di oggi pomeriggio vorrei provare a fare qualche ragionamento anche un po' di carattere generale ma sperando di non essere astratto. Allora è stato anche ricordato durante alcune presentazioni noi oggi operiamo in un quadro strategico per quanto riguarda le politiche ambientali di sostenibilità ma forse che mai è stato così chiaro. Cioè abbiamo piani e strategie a livello internazionale, a livello europeo che ci indicano abbastanza chiaramente qual è la strada da percorrere. Veniva ricordato prima il piano sullo sviluppo sostenibile approvato a livello governativo che ha sede nella sua attuazione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri quindi un'indicazione molto forte non è un tema ambientale ma un tema come sappiamo bene l'agenda 2030 riguarda una buona fetta di questioni ambientali ma ci sono tutta una serie di problematiche di carattere economico e sociale di grandissimo interesse e definisce una cornice abbastanza chiara di quali sono gli obiettivi a livello mondiale delle organizzazioni e delle Nazioni Unite di dove si vuole andare a parare. Abbiamo un piano clima-energia una strategia clima-energia che per il nostro paese è importantissimo ma che anche questa sta all'interno del famoso accordo di Parigi che è un accordo vincolante è un accordo importante è un accordo che ci vede come sistema ampiamente presenti dal tema del censimento delle emissioni di gas serra dal tema dell'adattamento climatico avremo anche un convegno in Puglia ai primi di ottobre proprio su tutte le questioni relative all'adattamento climatico abbiamo una strategia che ci arriva dal contesto questa volta fortemente europeo che è la declinazione di una serie di direttive che riguarda come è stato ricordato prima l'economia circolare quindi sia sul tema energetico che sul tema della gestione della materia abbiamo indicazioni anche qui molto precise abbiamo direttive sul tema della plastica che indicano anche qui obiettivi molto precisi insomma abbiamo un quadro dentro cui muoverci che credo sia molto chiaro qual è il ruolo di un sistema come il nostro all'interno di queste politiche strategiche ma io continuo a dire lo dico da sempre e ne sono assolutamente convinto e penso di non peccare di presunzione credo che sia un ruolo assolutamente strategico uno perché siamo coloro che producono i dati la conoscenza ambientale su cui poi queste strategie vengono in qualche modo impostate tra l'altro la legge 132 anche qui dopo una discussione non semplice e non banale ci dà definitivamente il bollino diciamo di essere i produttori ufficiali dei dati ambientali quindi la nostra reportistica che sarà sempre di più una reportistica di sistema e sempre meno una reportistica di Ispra ma in realtà noi non facciamo che collettare come Ispra il lavoro che viene fatto in gran parte non tutto ma in gran parte a livello delle agenzie ambientali quei report costituiranno sempre di più un punto di riferimento fondamentale per i decisori politici alcuni lo sono già ce ne sono alcuni forse più noti di altri sicuramente il report sul consumo di suolo quello sul dissesto idrogeologico per fare alcuni esempi sono degli strumenti che ormai sono entrati come posso dire nel lavoro comune che viene svolto a livello sia di amministrazioni ma anche per le scelte che devono fare i privati in secondo punto è che siamo io la dico così non è una bella parola però siamo co-custodi del bene comune cioè nel senso che con la nostra attività che veniva ricordata prima di verifica di ispezione di controllo di conoscenza di produzione di dati di approfondimento di ricerca finalizzata contribuiamo non da soli ovviamente insieme ad altre organizzazioni ad altre forze dello Stato a essere custodi del più grande bene che abbiamo che è il nostro ambiente dove noi sviluppiamo tutte le nostre attività economiche e le nostre attività quotidiane il terzo punto che poi credo sia quello oggetto del ragionamento che oggi abbiamo iniziato a fare ma che in realtà devo dire forse in maniera non ordinata forse in maniera a spot soprattutto le ARPA eseguono già da tempo cioè questo rapporto con il sistema imprenditoriale cioè inteso anche qua nel fatto che noi credo siamo un pezzo importante dell'economia di questo paese ce lo siamo detti tante volte perché siamo un pezzo importante dell'economia di questo paese un po' per le cose che ho detto prima siamo quelli che produciamo dati e conoscenza su cui poi il sistema economico basa in parte le proprie scelte un po' perché nell'attività che noi svolgiamo con quella logica di ispezione e controllo che è stata qui ricordata dall'intervento di Stursi per la parte di inquadramento poi Svorbatici ha parlato invece di come poi l'evoluzione tecnologica dentro cui siamo ci può veramente aiutare ancora a far meglio e in maniera più intelligente il nostro lavoro però questo è un tipo di attività da un punto di vista preventivo e direi anche di tipo di controllo successivo insieme anche qui ad altre forze i carabinieri in primis ma non solo che consente io lo dico sempre credo di non sbagliarmi di in un qualche modo favorire e dovrebbe favorire quello che è l'impresa innovativa che c'è nel nostro paese oggi la competizione sul mercato è molto forte e quindi per poter fare innovazione stare sul mercato rispettando le regole c'è necessità di impegnare risorse importanti è evidente che se coloro che impegnano queste risorse che scommettono sul futuro si trovano a dover affrontare competitors che non rispettano le regole o che magari in una parte del territorio non sono controllate o non seguono quei percorsi autorizzativi così interattivi e così virtuosi come magari succede da altre parti non sfugge a nessuno che si crea una sorta di dumping industriale che non favorirà certamente le imprese di qualità quindi è evidente che noi abbiamo anche questa funzione ed è per questo io credo proprio perché abbiamo questa funzione mi concentro soprattutto su quest'ultima proprio per arrivare all'attività che stiamo facendo oggi che questo sistema il nostro sistema ha bisogno assolutamente di aprirsi agli stakeholders esterni i quali anche qui schematizzo e mi schiedo scusa sono fondamentalmente diciamo di due tipi li metto in scala gerarchica i primi sono i cittadini cioè noi i primi nostri stakeholder di riferimento i nostri come posso dire in un qualche modo proprietari perché lo sono a tutti gli effetti noi siamo un sistema pubblico sono i cittadini noi abbiamo bisogno così come tanti altri di riacquisire una fiducia nei confronti dei cittadini abbiamo bisogno che le cose che facciamo di grande innovazione o meno trovino nel cittadino una come posso dire una fiducia oggi non è proprio così però abbiamo di fronte qualche strumento interessante che forse è nato sembrava una cosa molto marginale quando si parlava di citizen science uno diceva ma che cos'è questa robetta serve per dire faccio la app con la fotografia della specie della farfalla strana e poi la mando in realtà non è così Luca sta facendo una bellissima esperienza quella che hai fatto su Radon in Friuli Venezia Giulia dove c'è stato un coinvolgimento dei cittadini sul monitoraggio del Radon presenterei l'11 ottobre questi risultati di questa interessantissima bellissima esperienza che hai fatto con i cittadini ho dato un'occhiata ecco io credo che quel tipo di modalità lì in Emilia Romagna si è fatto un lavoro a Bologna sulla qualità dell'aria si sta facendo da altre parti qualche ragionamento sugli odori ecco io credo che quella modalità di lavoro lì sarà una modalità con cui noi dovremo fare i conti in maniera per tantissimo tempo cioè l'idea che noi comunque siamo i custodi di tutto quello che ho detto prima e che diciamo quella cosa lì e poiché la diciamo noi vale per tutti non funziona cioè noi bisogna che mettiamo in campo nuove modalità di coinvolgimento dei cittadini che devono avere ovviamente una base tecnico-scientifica accertata così è ci sono delle esperienze oggi interessanti oggi la tecnica ci consente di fare e la tecnologia cose che prima erano impensabili ma questo deve essere a mio parere e dovrà essere un modo di lavorare continuo che ci trova a trovare impegnati questo io credo sia una delle grandi innovazioni che abbiamo di fronte come sistema perché se no guardate possiamo avere la tecnologia più bella più sofisticata ma nel momento in cui parliamo se la gente non si fida è finita cioè questo vale per noi ma vale ancora di più per il sistema delle imprese nel momento in cui viene chiesto di costruire qualcosa cioè il tema dell'accettabilità sociale del progetto è un tema che anche grandi imprese molto innovative spesso non si pongono oggi è a mio parere il tema numero uno la seconda questione che credo appunto sia importante veniva anche ricordata prima e ci sono ripeto tante ARPA che hanno già fatto queste esperienze interessanti sul territorio è proprio questo attivare questo confronto col sistema delle imprese perché noi comunque con le imprese ci lavoriamo tutti i giorni perché le imprese sono un pezzo di economia perché un pezzo sono l'ossatura del sistema di sviluppo economico di un paese e noi abbiamo il dovere di confrontarci perché in questo confronto interattivo fuori dai nostri ruoli che poi dopo come posso dire riprenderanno noi abbiamo un ruolo ben preciso che ci dà la legge e che dobbiamo assolutamente mettere in campo nel momento in cui lo esercitiamo però ci possono essere altre situazioni ne parlavo anche ieri con il sottosegretario assolutamente trasparenti chiare come quella che faremo oggi pomeriggio dove si inizia un confronto con le imprese perché noi abbiamo tanto da imparare perché spesso le imprese dal punto di vista tecnico e tecnologico sono più avanti di noi non c'è niente da fare e probabilmente come veniva ricordato prima il sistema delle imprese deve anche in un qualche modo sapere come di fatto un'autorizzazione viene rilasciata come viene fatto un controllo e come diceva Sturzi pensate lui diceva faccio fatica io mi arrabbio quando in regione Friuli diciamo che è così e poi ognuno fa quello che gli pare provate a pensare che cosa vuol dire nel tutto sistema paese provare a fare questo tipo di operazione ma è un'operazione fondamentale bisogna partire per cominciare a farla proprio per tutte quelle situazioni che ricordavo prima quindi abbiamo tante cose da fare oggi abbiamo anche una posizione direi anche sul livello internazionale differente perché siamo entrati a tutto tondo come Ispra ma io chiedo qui ai colleghi di chiedere in sede di consiglio la prossima riunione che faremo che ci sia una forte rappresentanza delle agenzie nel contesto europeo noi siamo un sistema unico in Europa nel senso che a livello di agenzia europea per l'ambiente che è di fatto il braccio esecutivo della commissione noi dove c'è una rappresentanza mista ministeri agenzie noi oggi siamo presenti come primatori lo siamo come Ispra ma io non vorrei esserlo come Ispra proprio nella logica che ci siamo detti e su cui stiamo lavorando è importante che noi siamo presenti anche nei contesti a livello europeo perché anche qui in maniera molto breve ho cercato insomma di dare un messaggio del fatto che essendo dentro un sistema molto più grande di noi dobbiamo anche ragionare un po' tra virgolette in grande non trovarci spiazzati di fronte a determinate situazioni le professionalità ce le abbiamo tutte credo che questa iniziativa sperimentale che abbiamo fatto qui a Ferrara la potremmo assolutamente ripetere poi anche in altri contesti già qualcosina faremo anche a Palermo guardo Vastana perché è stata organizzata queste tre giorni dalle agenzie ambientali e su diversi argomenti anche qui ci sarà una giornata specifica del confronto con il sistema tra il sistema delle imprese ed SNPA quindi io credo insomma che siamo sulla strada giusta abbiamo tanto da lavorare ma credo che insomma l'entusiasmo e le idee non ci manchino grazie a tutti e buon pranzo a dopo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti